Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto stampanti laser print cartridge per Canon. Print cartridge per Canon LBP7100CN7110CWMF8230CN8280CW sostituito N2XEP731BK, un XEP731C, un XEP731Y, un XEP731Metri cartucce Immerspar Set compatible premium kit alternative non OEM sostituito Canon EP731BK, 731C, 731Metri, 731Y colori, 2X black nero, un X cyan, un X magenta, Un X yellow giallo compatibile a Canon LBP7100CNLBP71110CWMF8230CNEMF8280CW Il nostro prodotto è la sostituzione compatibile del modello OEM. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.